La seconda puntata è servita al pubblico soltanto per conoscere i componenti di questa terra. La terza edizione. E so già tanti nominati, cosa che ci anticipa il primo compito di Ilari Blasi per questa serata, iniziare, me in mano, ascoltirne la lista fino a scoprire chi dovrà lasciare la casa questa sera. Ricordiamo, infatti, che in nomination ci sono, Jane Alexander, Stefano Sala, Francesco Monte, Le Donatella, Andrea Mainardi, Walter Nudo, Martina Ambi, Enrico Silvestrin, Lisa Fusco ed Elia Fongaro. Ben 10, quindi, i nominati della prima puntata Ma chi rischia realmente di abbandonare la casa? Grande fratello VIP 2018, chi lascerà la casa? Gli indizi che arrivano dai social ci fanno intuire che due sono i concorrenti più a rischio, da una parte l'ex velino Elia Fongaro, protagonista in settimana anche di uno scontro con Maurizio Battista, è Martina Ambi, che risulta essere il concorrente meno conosciuto dal pubblico a casa. Che sia, quindi, tra loro due l'eliminato di questa sera. Ricordiamo, inoltre, che gli inquilini sono stati divisi in due gruppi. Da una parte troviamo i cavernicoli, composti da Eleonora Giorgi, Jane Alexander, Walter Nudo, Stefano Sala, Ivan Cattaneo, Martina Ambi, Le Donatella, Francesco Monte e Andrea Mainardi, e vanno a comporre la squadra rossa. Tutti gli altri fanno invece parte della squadra blu e hanno vissuto questa prima settimana nella casa. I primi pronostici e l'ingresso di Lory del Santo.Questa sera le due squadre Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.